è la più dolce, la più sensibile, tanto è vero che non è che ha guardato me ma ha guardato la banana un attimo che è arrivata a mangiare, hai fame? non posso, questa è la cena della serata no, non posso, è la cena della serata, la cena della serata la cena del vestito, via le mani, posso? no, non posso, davvero, è sensibile allora ciao ragazzi, buonasera, benvenuti a Convento Dino Nato, ho qui la sposa, ho qui la sposina vieni qua, ecco qua, grazie, ciao come ti chiami? Lisa, Lisa sei dolcissima, lo sai? eh grazie ma perché ti sposi? perché? per amore, per amore di? Andrea, Andrea che arriva da? dai Lasi, da Verona, siamo da Verona stasera c'è Verona, Bolzano, Trento, Modena, Modena tantissimo, giusto? ma perché mi porti? mi hanno un attimino perché non è che posso fare tutto io ma insomma, allora Dave si inquadri più in basso, lei si è portata alla bancarella, ci si è portata il lavoro da casa perché giustamente, ti hanno dato, allora inquadra bene, zucchine perché? se le hanno date questa sera le zucchine hanno dato, scusa, quanto stanno le zucchine al chilo? non so sai, cioè tu vendi la roba, allora io arrivo è un'offerta libera sì, allora arrivo, dico, vabbè, dammi una zucchina, non la pesi, c'è una dai un'offerta libera ok, se ci fosse, carote, niente, va benissimo questo perché tu devi raccogliere dei fondi esatto perché ti manca? eh, perché mancano, mi hanno detto le mie amiche per me, perché devono farmi bere ancora di più adesso io non so altro allora, quindi giustamente lei raccogli i fondi per, perché, diciamo, per riuscire a dissetarsi al massimo perché poi durante la serata dovrai ballare tanto quindi avrai bisogno di benzina la benzina la procuri vendendo questo materiale cosa qua? sì, sì, sì allora, per il momento allora ti lascio andare così vendi molto di più non ti, non ti lo fuori questo perché è pericoloso stiamo ancora in fascia protetta perché ti ricordo che tutto ciò che noi abbiamo detto lo vedrai in video ma non ti importa perché poi rimane un bel segno della tua testimonianza di ciò che hai detto ecco, arriva la patatina buonissimo, vuoi assaggiare? allora, fammi un saluto Dave, se poi ti giri, ci sono le amiche che stanno riprendendo lei ecco, vai lei con loro che la salutiamo eccoci qua ciao, come ti chiami? Beatrice scusami che sta digerendo ciao mi chiamo Matilde Beatrice Erika io Isa io tevanuccio sto mangiando le patate della sposa quindi patate per tutti eh? giusto? patate per tutti un urlo finale patate per tutti sì